Allora, oggi io vorrei parlarvi del processo di Johnny Depp e Amber Heard e mettere veramente dei puntini su lei perché sono state dette un mucchio di sciocchezze dai fan anche su Twitch in questo periodo. E ad oggi i fatti e quello che è emerso dai diversi processi dice questo. Ad oggi Amber Heard ha accusato Johnny Depp durante la loro storia tra il 2015 e il 2016, il loro anno di matrimonio, che lui è stato violento con lei circa 11 volte. Di queste 11 volte, praticamente, di queste 11 volte Johnny Depp ha, allora, in realtà, Johnny Depp ha anche abusato di Amber Heard. Questa circostanza, però, ad oggi al processo non è mai stata provata ancora. Però, in realtà, allora, ci sono diverse incongruenze su alcune cose che ha detto Amber Heard perché, allora, è sicuramente falso quello che dice Amber Heard quando dice che, in realtà, in realtà, i cani avevano fatto cacca nel letto coniugale e praticamente avevano, diciamo, in realtà non è vero. È stata lei che probabilmente, per dispetto verso Johnny Depp, va a fare la cacca nel letto coniugale e quindi poi Johnny se le trovate nel letto. Comunque, praticamente viene da ridere non raccontando sta cosa. Comunque, quindi, insomma, anche lei, diciamo, è sicuramente vero che lei soffre di un disturbo borderline. Questo è stato accertato dalla psicologa di Johnny al processo in Virginia. Tuttavia, ad oggi non è mai stato provato che Amber Heard abbia mai alzato le mani contro Johnny Depp. Anzi, è stato provato il contrario, vi dicevo, di quelle undici volte già al processo in Inghilterra e anche, diciamo, tutti i giudici americani ai quali Johnny Depp ha, diciamo, ha fatto causa, nessun tribunale ha deciso di occuparsene. Perché probabilmente? Perché ha già valutato come credibile e fondata l'accusa di Johnny Depp. E ricordiamo che nel divorzio, nel 2016, Johnny Depp ha donato ben 7 milioni di dollari ad Amber Heard. Tuttavia, è vero che due volte Amber Heard è stata violenta contro Johnny Depp. Però, allora, una volta quando Johnny Depp praticamente gli diede uno schiaffo e gli diede un pugno, lei praticamente gli diede degli schiaffi, no? Tutto quanto, lei per difendersi diede un pugno in faccia a Johnny Depp e praticamente a Johnny Depp gli colla il sangue dal naso. Quindi, lei è vero che gli ha alzato le mani ma l'ha fatto per difendersi. Se un'altra volta, praticamente, lei ha, diciamo, Johnny Depp durante un litigio, mentre era ubriaco, stava cercando di buttare la sorella di Amber Heard, Whitney, giù dalle scale, e lui, diciamo, per difendere la sorella, fatto che, ricordo, è stato già, diciamo, è stato, è stato confermato anche dalla stessa sorella di Amber Heard, Whitney, praticamente l'ha, diciamo, buttato, non l'ha buttato, diciamo, l'ha alzato le mani addosso solo per difendere la sorella Whitney. Tuttavia, ci sono delle incongruenze. Oltre al fatto della cacca di Yorkshire, che in realtà non l'hanno fatto loro, ma come sostenuto da Whitney è stato provato a processo, in realtà è stato, i cani di Yorkshire, di Amber Heard, non hanno mai, diciamo, mangiato la droga, e quindi non hanno mai avuto problemi intestinali, da quello che so. Comunque, tuttavia, come vi stavo narrando, praticamente Amber Heard ha, ecco, queste sono le uniche due volte che, ricordo che non è vero che il giudice della Virginia ha deciso di dare ragioni a Johnny, ma ha semplicemente valutato che Johnny potesse essere vera l'affermazione di Johnny. Ma, tra l'altro, quell'intervista al Washington Post, in cui lei accusava Johnny Depp di essere un picchiatore di mogli, in realtà faceva riferimento al fatto che, semplicemente, Johnny era un violento, anche se ricordo che Johnny Depp, oltre ad essere stato violento con Amber Heard, è stato violento anche con una sua ex fidanzata, e questo è stato, diciamo, testimoniato anche da un ex assistente della fidanzata di Johnny Depp, anni fa, in un giornale, in un'intervista che fecero. Tuttavia, esiste una dichiarazione che fece, che trovate anche sulla mia pagina Facebook, Lorenzo Testa, praticamente una dichiarazione di un messaggio in cui l'ex agente di Johnny Depp si scusava con Amber Heard per il fatto che Johnny Depp avesse picchiato più volte, avesse picchiato Johnny Depp e quella non era l'unica volta che lo faceva. E ancora, in realtà, è una bugia però quella che dice Amber Heard quando dice che in realtà Johnny Depp, non quando dice che già un'altra fidanzata sua era stata picchiata da Johnny Depp, perché questo è stato già confermato in un'intervista, fu confermato, e fu confermato anche da un amico di Johnny Depp, che in realtà lui, Johnny Depp, non è un violento, però quando abusa di droga e di alcol, soprattutto quando abusa di alcol, diventa un violento. E c'è anche un video che è stato portato a processo da Amber Heard che prova che lui in realtà, quando ha abusato di alcol, diventa un violento. Infatti si vede che spacca una bottiglia. Quindi, come vedi, quello che dice Amber è credibile. Tuttavia, Johnny Depp ha già risarcito il Sun con oltre 20.000 dollari, perché è stato già provato che le sue accuse erano fondate. Tuttavia, il giudice potrebbe smentire questo, e staremo a vedere cosa succederà. Il processo si dovrebbe concludere venerdì della settimana prossima, e, insomma, vi terrò aggiornare. Infine, una cosa che volevo dirvi, Amber praticamente ha... Ah, non è vero che l'ex fidanzata di Johnny Depp ai tempi di... Negli anni 90, Kate Moss, Johnny Depp durante un litigio ha tentato di buttarla dalle scale. Anche se due persone, afferma Amber Heard, che hanno detto questo, come dicono gli avvocati di Johnny Depp, non esiste nessun documento, e non è mai stata portata a processo questa cosa. E la cosa incredibile è che la stessa Kate Moss smentisce quanto dice Amber Heard. Quindi, in realtà, questo evento non è mai avvenuto. Tuttavia, quindi, ci sono alcune incongruenze in quello che dice Amber Heard. Questo è poco ma sicuro. Così come è anche sicuro che lei ha manipolato diverse volte Johnny Depp, lo ha tradito. Tuttavia, quei 7 milioni che ha ricevuto da Johnny Depp, Amber Heard li ha dati in beneficenza. Ma li ha dati in beneficenza soltanto nel 2000. Ha dato soltanto 1 milione e 3 in beneficenza. 1 milione e 300 mila dollari, non 7 milioni. Perché nel 2018 diceva che dare una cifra in beneficenza così alta non poteva permettersi allora di dare una cifra in beneficenza così alta. Però ha promesso che in futuro darà, diciamo, altri milioni in base a quanto promesso quando avrà la possibilità di farlo. Io credo che abbia la possibilità di farlo ma probabilmente non voglia farlo perché non lo so. Non so perché non voglia farlo e non si sa se lo farà in futuro. Io credo che lo farà, non lo so, vedremo. Infine, la cosa che vi devo dire è questa. Per quanto riguarda invece Pirati allora, vabbè, è stato già accertato che ha avuto diverse diverse relazioni Johnny Depp anche con Angelina Jolie. Nessuno ha mai ha mai detto che in realtà Johnny Depp è mai stato violento sul set. Questo è stato provato. Mi ha molto colpito anche che quella quella grandissima attrice stupenda e una delle attrici più brevi del mondo Penelope Cruz ha parlato comunque di Johnny Depp come un grandissimo amico e una persona che non è violenta. Ma questo non dimostra che lui non lo sia stato con a Veneto. quindi ad oggi questo è stato provato che è stato violento. a meno che ti ripeto Johnny Depp non riesce a portare a processo qualche prova e qualche testimone che era presente che lui non ha mai violentato Johnny Depp o Amber Heard o il contrario questo questo è un episodio che è stato già acclarato che è accaduto quindi è ilutile che capisco anche che i fan vogliono stare dalla parte di Johnny Depp a me dispiace quello che è accaduto però bisogna anche riportare i fatti per quello che sono capito e sicuramente non verranno mai riconosciuti a Johnny Depp 50 milioni mai è sicuramente vero il fatto che Johnny Depp il dito probabilmente se l'è tagliato da solo probabilmente io credo che probabilmente lui non volesse neanche farlo perché lui dice dice io a me piace suonare la chitarra non mi sarei mai mozzato il dito perché comunque avrei avuto difficoltà a suonarla probabilmente lui in uno stato di concitazione tanto che era ubriaco e tanto che diciamo era era diciamo era non era in sé in uno stato di concitazione non si sa reso conto che ha ha buttato diciamo un pezzo di di vodka di bottiglia di vodka contro Amber Heard e quindi si è ferito e involontariamente si sarà ferito il dito quindi magari non voleva è caduto potrebbe anche essere vero che è stata lei a provocare però provalo ad oggi questo fatto non è mai stato provato quindi questi sono i tratti salienti vedremo cosa succederà e questi sono i fatti quindi Johnny Depp non è una persona violenta ma lo diventa quando fa abuso di droghe ma soprattutto quando fa abuso di alcol e lui stesso lo disse a C'è posta per te e lui stesso un'ultima incongruenza lui disse in un'intervista a Rolly Stones nel 2018 che non aveva mai alzato le mani anzi disse che in realtà lui praticamente aveva alzato le mani nei confronti di Amber Heard una sola volta ma lo aveva fatto per difendersi quando praticamente lei gli aveva dato un pugno in faccia ad oggi una cosa è stata detta da una streamer su Twitch non è minimamente vero che risulta che in ospedale si sia stata sia stato accertato che in realtà Amber Heard non ha mai avuto lividi la polizia quando fu chiamata Amber Heard per poi emanare l'ordine restrittivo nei confronti di Johnny Depp non ha visto e trovato alcun segno di violenza nei confronti di Amber Heard da parte di Johnny Depp tuttavia quell'ordine restrittivo è stato emanato uno è anche vero dice è stato emanato anche un ordine restrittivo nei confronti di Amber Heard quando lei era fidanzata con un'altra tizia sì però poi quel procedimento è stato archiviato quindi in realtà ad oggi non è mai stato provato che Amber Heard sia stata violenta se non in quei due casi in cui lo ha fatto o per difendere se stessa o la sorella Amber Whitney volevo dire ci tenevo a dirvi questo e e basta poi io credo che sia comunque vergognoso vedere Johnny Depp che comunque si mette a ridere mentre lei piange questo è fa capire anche che tipo di persona sia Johnny Depp perché potrebbe anche essere vero che alcune cose che lei dice non sono vere però cerca di rispettare almeno la sofferenza di una tua ex che tu dicevi amare se ti comporti così dimostri in realtà che persona sei quindi a presto good luck good morning grazie a tutti Grazie.